Zanzibar Waisa S, 5 Zarasco, 6 Zio Marco, 7 Zeus Indal Rinuncia al lancio Zeus Boccino, si ritrae anche Zeus Indal C'è lotta in partenza con Zanzibar Waisa S che viene attaccata da Zio Marco Scende la corda Zanzibar Waisa S, insiste Zio Marco Vedremo le scelte tattiche da parte dei concorrenti Va dritto Gennaro Casillo, difende la posizione però Alessandro Gocciadoro, viene fuori un parziale veramente violento E alla fine sbaglia Zio Marco al termine della curva conclusiva Mentre Gennaro Casillo cercava di fermarlo per posizionarlo in seconda posizione della corda Secondo rimane Zeppelin Man, 27-8 il quarto iniziale Rimasta al comando ma speso veramente tanto Adesso dovrà rifiatare, all'esterno avanza Zara BF Che gradatamente si porta ai fianchi della leader 42-8 per i 600 Adesso andiamo a vedere il mezzo miglio Con Zanzibar Waisa S che lo chiude in ulteriore accelerazione In un minuto e sette decimi C'è un 33 di secondo quarto Dopo il veloce strappo iniziale Nulla cambia dal punto di vista tattico Sempre Zanzibar a condurre Zeppelin Man in corda All'esterno Zara BF Poi Zeus Boccino Ancora Zeus Indal Chilometro in uno, 15 e mezzo 14-7 di frazione Zanzibar sempre in controllo 14-9 l'ultima frazione Si volta Alessandro Gocciadoro Prova ancora a tergiversare Zara BF accusa Prova in mezzo alla pista Da Zeus Boccino Ingresso della retta d'arrivo Con Zanzibar Waisa S Che prova lo stacco Da Zeppelin Man E da Zeus Boccino Allunga Zanzibar Waisa S Se ne va nei metri conclusivi E fa valere uno spessore superiore Chiude facile Vince come vuole Zanzibar Waisa S Il secondo posto per Zeppelin Man Alla terzo Probabilmente Zeus Boccino Sul galoppante Zeus Indal Due minuti È un decimo C'è un 14-1 Per la retta d'arrivo 44-7 Per i 600 conclusivi Vittoria tattica Per Alessandro Gocciadoro Ha dovuto Di fatto E l'ha risolta Di fatto in partenza Resistendo Opponente Si d'oltranza A Gennaro Casilla A Zio Marco Con questi ultimi Che hanno finito Con lo sbagliare Nel finale Ha staccato Facile Secondo posto Per un vaido Zeppelin Man Al terzo Zeus Boccino Misura Da ufficializzare Intorno all'1 E 15 Per chi vince A Ressandro Gocciadoro Alla guida E al training I colori Della scuderia Orse Sour Passion Ho blackonomia Impersona Ho blackonomia Some Other Om Up Grazie a tutti